Auguri di Natale 2018 alla città e a ogni uomo e donna che vivono in queste terre. Inizia così la lettera del Vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Un augurio per tutti perché il Natale è una festa cristiana, ma non è per i soli cristiani, è per tutti. Alla città di Pistoia Tardelli augura che sia sempre più all'altezza della sua bellezza, che risplenda come una città di pace che crede nel dialogo come via per affrontare e risolvere i problemi e che non sia mai sorda o indifferente nei confronti di chi soffre. Mi auguro che ci sia più lavoro, lavoro per tutti e lavoro dignitoso, giusto. Auguro alla città uno sviluppo vero e consistente e a chi l'amministra il coraggio di cercare solo e soltanto in sincerità di coscienza il bene comune. A tutti, indistintamente gli abitanti di questa terra, va inoltre il mio augurio di Buon Natale. Un pensiero particolare il Vescovo di Pistoia lo rivolge ai tanti nostri anziani in casa, in famiglia o a volte soli. E ancora a tutti i malati che sono in ansia per la propria salute e devono sottoporsi a cure impegnative. Penso anche a chi ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo, dice il Vescovo, come ai tanti fratelli immigrati che sono venuti tra noi a cercare speranza. Infine voglio rivolgere un augurio speciale ai ragazzi e ai giovani, spesso vittime innocenti della nostra cattiva società. Pace di cuore a tutti, pace interiore e profonda, pace che si estende alle relazioni sociali, al vicinato, alle contrade, all'intera città. Quella pace che gli angeli annunciarono ai pastori di Betlemme. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore, conclude la lettera del Vescovo Tardelli.